Dal 1980 seguiamo la stella, tre sedi, tre diversi marchi, con passione, impegno, con un'unica mission, creare la miglior customer experience. Siamo creatori di grandi emozioni, formati da casamadre Mercedes-Benz, siamo pionieri di nuove strategie. Grazie a questa dedizione seguiamo il cliente in ogni fase, dall'acquisto all'assistenza. Orientati all'innovazione, motore della crescita economica e dell'intera società. Guardiamo al futuro con entusiasmo. Noi siamo Crema Diesel. Una squadra giovane, dinamica, pronta ad ogni nuova sfida. Crema Diesel, dove la stella brilla di più. Mercedes-Benz, the best or nothing.